Dopo 13 risultati utili consecutivi, l'Arezzo calcio femminile incombe nella prima sconfitta casalinga, proprio nell'ultimo incontro davanti al suo pubblico. Il Don Bosco Fossone, dopo il 2-0 dell'andata, riesce ad imporsi anche ad Arezzo con un netto 4-1 che gli permette di consolidare il secondo posto in campionato. In una tribuna stracolma e colorata di Amaranto, Mister Acquisti conferma il modulo che ha contraddistinto la squadra durante tutto l'arco della stagione. Antonelli tra i pali, linea 3 dietro, composta da Zeghini, Teci e Terini, in mezzo a 5 con Renzoni, Magnani, Baracchi, Chiodi e Serluca, davanti Torrioli fa coppia con il capitano Ilaria Lucarini. Grande assente, il fantasista della squadra Paganini ferma i box per un infortunio muscolare. Nei primi minuti di gara si vede subito il pressing a tutto campo del Don Bosco che passa in vantaggio dopo appena due minuti di gioco. Cross dalla destra, Teci e Zeghini vengono colte in controtempo con quest'ultima che colpisce la sfera con il braccio, per il direttore di gara non ci sono dubbi, e decreta il calcio di rigore. Dal dischietto si porta Angelini, Antonelli intuisce la traiettoria della conclusione ma non riesce ad arrivarci, ospiti in vantaggio. Al ventisettesimo arriva il raddoppio del Don Bosco, schema da calcio di punizione, alla battuta si porta Baldini, palla dentro per il taglio di buono che sorprende tutta la difesa Maranto, inzacca il 2-0. Poco attenta la retroguardia dell'Arezzo anche al 43esimo, quando buono trova la doppietta sua azione fotocopia della rete precedente. C'è tempo prima dello scadere anche per la quarta rete della squadra ospite, firmata Baldi. Arezzo poco concreta e poco concentrata nel primo tempo che si è lasciata schiacciare dal pressing a tutto campo del Don Bosco Fossone. Nella ripresa, girandola di cambi per l'Arezzo con gli ingressi di Pesci, Mazzini, Gregori Scorticci e Celi. Finalmente la squadra di casa torna a giocare a pallone e riesce anche a creare diverse occasioni, ma il poco cinismo sottoporta. Rimanda la rete al ventisettesimo, quando Lucarini, da posizione di filata, conclude a rete dopo aver saltato il portiere ospite. Per il capitano dell'Arezzo si tratta della sedicesima marcatura stagionale. Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la fine dell'ultima partita casalinga stagionale per l'Arezzo, che nonostante il passivo viene applaudito e sostenuto dai numerosi tifosi presenti negli spalti, presente anche il comitato Orgoglio Amaranto. Non basta al Don Bosco Fossone la vittoria contro l'Arezzo per cercare di raggiungere il Lucca 2003, che grazie alla vittoria per 4-2 contro la Real Aglianese si laurea campione del torneo regionale di Serie C con un turno di anticipo. Nell'ultima gara del campionato l'Arezzo andrà a giocare in casa della Valdinievo, l'undicesima in classifica. L'andata alla squadra Amaranto vinse 3-1 con doppietta di Paganini e Gol di Aterini. Siamo qui con il mister Acquisti. Mister, quest'oggi è arrivata una sconfitta, un passivo abbastanza pesante, anche per quello che abbiamo visto in campo. Comunque nonostante l'Arezzo tenesse a fare la figura nell'ultima partita casalinga del torneo. E' veramente un peccato perché eravamo quasi riusciti a fare un campionato netto, almeno in casa, senza nessuna sconfitta. Purtroppo oggi l'avversario ha dimostrato di essere superiore a noi e questo però deve essere un punto di partenza, non d'arrivo, per farci capire che si può ancora andare avanti, migliorare, come sicuramente hanno fatto loro. Si può buttare via tutto per una partita, bisogna trovare le motivazioni, probabilmente le conoscevamo già. Le ragazze hanno dato tanto durante l'anno, forse anche più di quello che in realtà potevano. Io non posso, tra virgolette, rimproverare niente alle ragazze. Adesso c'era Valdegnevole domenica per l'ultimo match, l'ultimo turno di campionato e poi la Coppa Toscana. Obiettivo comunque ancora in corsa per l'Arezzo. Sì, sì, è la dimostrazione di quello che ho appena detto, che le ragazze hanno dato veramente molto. Spero sicuramente domenica prossima andremo a affrontare un avversario più alla portata. Spero che magari con una prestazione diversa, magari un recupero di qualche infortunata, che oggi c'avevamo anche qualche assenza. Vediamo un po', speriamo bene per il futuro. Quindi come al solito comunque c'è stata la linea verde in campo, poi nella ripresa queste ragazze che saranno poi magari il futuro dell'Arezzo Calcio Femminile. Sì, sì, come in tutto l'anno, nonostante dei buoni risultati, abbiamo sempre cercato di far crescere tutta la società e tutto l'ambiente, tutte le ragazze, dandogli tanto minutaggio in queste partite di Sareci. Anche oggi, secondo me, ha mostrato il proprio valore. Starà a loro, che hanno tanto tempo a disposizione, crederci e cercare di fare loro il proprio futuro, insomma. Starà a loro, che hanno tanto tempo a disposizione,